Sono circa 300 gli atleti che domenica hanno solcato le candide piste del Monte Porra dove si è tenuta una gara di sci di discesa a livello provinciale Fisi. La manifestazione è stata organizzata da due società, lo Sciclub 13 di Clusone per quanto riguarda le categorie allievi e ragazzi, lo Sciclub Orezzo per i baby e i cuccioli. È stata una giornata splendida così come ha ricordato Daniela Zinni, responsabile provinciale Fisi delle prove alpine. È una giornata stupenda al Porra, gara sia della categoria children sia per i pulcini, livello della manifestazione e dei nostri atleti come sempre variabile a seconda degli anni. Ho visto buoni sciatori, ho visto grande grinta, l'ambiente bergamasco è un ambiente sempre stimolante per atleti di alto livello e mi sembra che gli obiettivi li stiamo portando avanti con serietà e con impegno. Siamo soddisfatti di questa manifestazione e facciamo anche un augurio per il proseguo del circuito a tutti gli interessati e soprattutto ai bambini. Per la categoria ragazzi femminile al terzo posto Giorgia Benzoni dello Sciclub 13, al secondo Eleonora Sara della Radici Group e al primo Maddalena Agnelli dell'Orezzo Valle Seriana. Per i ragazzi al terzo posto Federico Barzasi della Radici Group, al secondo Denis Cagnoni della Radici Group e al primo Federico Tomasoni dell'Ubi Banca Goggi. Per gli allievi femminili al terzo posto Noemi Norris del Selvino, al secondo Sara Panzardi dell'Orezzo Valle Seriana, al primo Marta Pirovano della Radici Group. Per gli allievi al terzo posto Nicolo Giudici dello Sciclub 13 di Clusone, al secondo Daniel Zucconelli della Radici Group, al primo Mattia Zambaiti dell'Orezzo Valle Seriana. Per le società sul podio al terzo posto Lo Sciclub 13 di Clusone, al secondo L'Ubi Banca e al primo il Radici Group. Per i cuccioli al terzo posto Francesco Agnelli dell'Orezzo Valle Seriana, al secondo Giancarlo Zambaiti della Radici Group e al primo Emanuele Radici della Radici Group. Per la categoria cuccioli femminile tre giovani atlete del Radici Group, al terzo posto Ilaria Ghisalberti, al secondo Martina Bendotti, al primo Giulia Borsatti. Per quanto riguarda le società sul podio al terzo posto L'Ubi Banca, al secondo Lorezzo Valle Seriana, al primo il Radici Group. Per la categoria baby maschile al terzo posto Matteo Tognoli delle Radici Group, al secondo Marco Locatelli dello stesso club e Matteo Bendotti, al primo posto sempre delle Radici Group. Per la categoria baby femminile al terzo posto Sara Vitali delle Radici Group, al secondo Ilenia Franchina dello Sciclub 13 di Clusone e al primo Carlotta De Martino dello Sciclub Radici Group.